Nasce la Carta dei Diritti Universali del Lavoro, il nuovo statuto, un patrimonio di dignità e libertà, una sfida da vincere insieme. Vieni in tutte le piazze d'Italia e sostienila con la CGL. Carta dei Diritti Universali del Lavoro è tua. Firmala. Tua, l'azienda regionale dei trasporti ancora al centro delle polemiche. I sindacati accusano i vertici di immobilismo e si preparano allo sciopero. Il servizio di Mariano D'Amico. Continua lo stato di agitazione in Tua, l'azienda regionale unica dei trasporti. La Filte CGL ha avviato la seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, praticamente l'anticamera dello sciopero, e martedì sarà ricevuta dal prefetto di Chieti Antonio Corona. Mezzi, organigramma, organizzazione dei servizi, officine, evasione tarifaria, tante le questioni aperte a cui il neodirettore generale di Tua, Giuseppe Cassano, dovrà dare risposte. Il segretario regionale della Filte CGL, Franco Rolandi. Noi siamo assolutamente insoddisfatti di come stia procedendo Tua, anche alla luce dei tanti sacrifici che hanno fatto i lavoratori, accettando un contratto aziendale che prevede aumenti di produttività e in alcuni casi anche riduzione del salario. Noi crediamo che questo gesto di responsabilità debba essere apprezzato dalla società. La Filte CGL ha aperto una vertenza regionale, ha inviato una lettera a tutti i politici abruzzesi e la settimana scorsa è stata ricevuta in audizione dai capigruppo alla Regione. La nostra vertenza non è assolutamente pretestuosa. Noi poniamo questioni legate alle risorse, perché dal 2011 che si stanno tagliando risorse al settore, poniamo la questione delle regole, perché l'Abruzzo è l'unica regione italiana dove non ci sono regole sul trasporto pubblico locale e abbiamo posto la questione del sistema tariffario unico, perché attualmente il biglietto unico vige solo sull'area metropolitana a Chiedipescara. Un altro punto essenziale è la cessione del ramo d'azienda per quanto riguarda i servizi commerciali. All'interno di questi servizi commerciali ci sono dei servizi, delle tratte importanti come la Sulmona, Vezzano, Roma, che quotidianamente trasporta centinaia e centinaia di passeggeri che sono pendolari, non sono turisti. Noi crediamo che questo progetto miri esclusivamente ad accontentare qualche politico di turno che non ha trovato più la poltrona con la fusione delle società.